Nei giorni scorsi alcuni nostri connazionali che si trovavano in Kenya per collaborare con una missione sono stati aggrediti e rapinati. È successo a Nairobi. Il gruppo di italiani, veronesi, era in un'autofficina in seguito ad un guasto all'auto. Improvvisamente sono entrati i rapinatori che hanno aggredito i turisti e picchiato i lavoratori. Si sono impossessati di quanto era nelle tasche dei veronesi, documenti compresi, e si sono dileguati. Fortunatamente i veneti, abituati a viaggiare, si sono dati subito da fare per ottenere le carte e riuscire a rientrare in Italia. Purtroppo l'Africa resta un luogo davvero pericoloso per gli italiani. Il territorio è stato spesso teatro di rapine, agguati e anche omicidi nei confronti dei nostri concittadini, ma solo nell'ultimo mese la situazione pare aver avuto un peggioramento. In meno di 60 giorni è stata rapita Silvia Romano e nonostante gli arresti e le operazioni di polizia non emerge nessun elemento utile alle indagini. A metà dicembre poi è sparita la coppia di fidanzati, Luca Tacchetto ed Edith Blyce. Lui della provincia di Padova, lei canadese, erano in Burkina Faso. Anche loro potrebbero essere finiti nella rete di altri banditi e al momento sulle loro sorti non vi è traccia. Tanti gli italiani che sarebbero rientrati dopo l'aumento della criminalità.